ciao amici oggi voglio condividere con voi una ricetta dolce golosa che si fa in cinque minuti squaletto dice di comprare un dolce al supermarket e il solito burlone lui questa ricetta si fa a casa ed è davvero facilissima e velocissima pensate che non si deve nemmeno cuocere sono delle deliziose palline raw al cocco e le potete fare in due versioni vegetariana con una ricotta e vegana con una ricotta vegana o formaggio spalmabile veg intanto mettete un bel mi piace per questa ricettina tanti mi piace tanti nuovi video ingredienti 125 g di farina di cocco 125 g di zucchero di canna 250 g di ricotta fresca di pecora cocco in scaglie preparazione mettere la ricotta scolata in una terrina con la farina di cocco e lo zucchero di canna mescolare bene fino a ottenere un impasto omogeneo senza grumi in un piatto mettere le scaglie di cocco che serviranno tra poco a questo punto formare delle palline con le mani e rotolarle nelle scaglie di cocco per guarnirle mettere tutte le palline su un bel piatto e lasciare riposare in frigo per due ore prima di servirle lasciate la temperatura ambiente per cinque minuti saranno ancora più golose gnam gnam noi andiamo a farle subito già sono fantastiche io le servo nei loro pirottini su un vassoio così sono più facili da prendere potete usare questa ricetta per fare bella figura quando non avete tempo di fare un dolce classico oppure volete una ricetta creativa per stupire gli ospiti le adoreranno sul canale trovate tante altre ricette facili e veloci sia crude che cotte per vederle tutte basta iscriversi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto questa ricetta mi intriga proprio ho scritto un libro di ricette così si chiama vegan raw l'ho scritto con la mia amica chef serena babbo è pieno di ricette golose come questa nei commenti fatemi sapere come vi sono venute e se avete delle varianti golose da consigliare mangia bene sano e con gusto